Le formazioni ufficiali di Juventus Milan, posticipo del sabato di Pasqua nella trentesima giornata di Serie A. Segui il match live le formazioni ufficiali Juventus, 3-5-2, Buffon, Barzagli, Benapia, Chiellini, Litzsteiner, Chedira, Pjanic, Matuidi, Asamoa, Dybala, Higuain. All, Allegri, Milan, 4-3-3, Donnarumma, Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez, Cassie, Biglia, Bonaventura, Suso, Andre Silva, Cialanolu, All, Gattuso, Arbitro, Paolo Mazzoleni, Video Allegri, lo scudetto è il nostro primo obiettivo, il Napoli ha solo quello.